ciao ciao a tutti bentrovati sul mio canale veri asmr e grazie per aver scelto questo video rilassante contro il mal di testa per chi non mi conoscesse io mi chiamo Federica e quello che state per guardare è un video sussurrato dalla suona binaurale quindi questo significa che potrete ascoltarlo da orecchio a orecchio ti consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari per aumentare l'effetto rilassante e curativo prima di iniziare se l'idea ti piace ti chiedo di farmelo sapere lasciando un mi piace e naturalmente se non sei ancora iscritto oppure iscritta al canale puoi farlo cliccando il pulsante iscriviti qui sotto e soprattutto la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti detto ciò possiamo iniziare bene vi chiedo innanzitutto di distenderti in un posto comodo e di spegnere la luce puoi tenere gli occhi aperti oppure chiusi come preferisci ma sono sicura che durante il corso del video ti darà voglia di chiuderli in ogni caso perché questo video avrà il potere non solo di farti passare il mal di testa ma anche di indurre una certa sondolenza che spero ti porti a riposare molto bene bene adesso inizia a respirare prendi un respiro profondo espira benissimo inizia a concentrarti sul tuo respiro e ad ogni ispirazione fai entrare in tutto il tuo corpo un'aria pulita e guaritrice e ad ogni ispirazione fai uscire un po' del dolore che senti visualizzalo come fosse un fumo grigio presente in questo momento nella parte alta della tua testa un fumo che si propaga sulla fronte, sulle tempie e nella parte posteriore del tuo cranio è molto importante che tu visualizzi il dolore come fumo che tu gli dia un'immagine perché solo così andremo ad eliminarlo efficacemente bene continua a respirare facendo questo esercizio guidato inspira l'aria pulita e guaritrice espira il fumo grigio andalo via allontanalo dal tuo corpo attraverso il respiro non è necessario che tu faccia sempre dei respiri profondi puoi respirare naturalmente e dolcemente al ritmo che più ti conviene quello che senti naturale con calma e tranquillità l'importante è che ad ogni ispirazione tu faccia penetrare nel tuo corpo l'aria pura e guaritrice che senta di farla arrivare in tutta la tua testa per liberarla dal daliri dal dolore piano piano attualmente senti che il mal di testa ti abbandona, scivola via e si dissolve nella tua testa si fa sempre più spazio, l'aria pura e guaritrice e senti leggerezza sempre di più ad ogni ispirazione ad ogni espirazione grazie senti come è leggero adesso tutto il tuo corpo senti che piano piano ti innalzi al di sopra dei tuoi pensieri che non hanno più importanza togli via lasciali uscire insieme al grigiore del fumo non tentare di trattenere i pensieri cosa stavi pensando? lascia stare non ha alcuna importanza visualizza solo il fumo che esce e l'aria pura e guaritrice che entra lascia andare lascia andare tutto ciò di cui ora non hai bisogno lascia che ti provoca un turbamento lascia che svanisca come il fumo lascia che le neppi si tiratino fai posto alla chiarezza e al vuoto il tuo respiro è sempre più calmo è regolare è pulito e sa di buono perché nella tua testa adesso c'è solo purezza leggerezza puoi ripetere l'esercizio tutte le volte che ne avrai bisogno e se necessario ascolta da capo questo audio io ti lascio la buonanotte e ti metto e ti metto come il mio solito pagini fatosi ma sulla fronte noi ci vediamo come al solito se ti va al prossimo video ciao buonanotte 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 buonanotte